Episodio fondamentale Il meme è clamoroso questo L'avrò detto in tutti gli episodi Episodio fondamentale 5 partite abbiamo la coppa La US Open Cup Che questa la dobbiamo giocare ragazzi Con veramente Dovemmo buttarci anche noi in mezzo al campo Per quanto è importante questa competizione Visto che nella carriera di giramondo bisogna vincere tutto a livello nazionale Prima di cambiare squadra E quindi in questa prima stagione vorrei provare a vincere La US Open Cup Poi avremo Dallas, St. Louis Austin e Real Salt Lake Poi vedremo se stimolarci qualche partita Se c'è via così bene Attualmente in classifica Nella Western Conference Siamo messi abbastanza bene Siamo terzi Siamo partiti con tre vittorie di fila Poi abbiamo perso contro i Vancouver Abbiamo vinto E poi abbiamo perso contro i Columbus Crew 5 a 1 E siamo terzi Va bene Cioè dobbiamo arrivare tra le prime sette Per andare ai playoff Sarà molto difficile Per questo io voglio vincere a US Open Cup quest'anno Perché vincere l'MLS in sé per sé Attraverso i playoff Sarà per noi difficilissimo Non abbiamo secondo me la squadra per farlo Perché partiamo veramente ad una base inguardabile E per questo voglio vincere quest'anno I US Open Cup Per concentrarmi nel prossimo anno Solamente all'MLS Se poi quest'anno dovesse dare bene E vincere dunque anche l'MLS Cambieremo ovviamente Nazione Anche se solo dovessimo vincere l'MLS e basta Poi vedremo un attimo come ragionare Da quel punto di vista Nell'ultimo episodio abbiamo cambiato difficoltà Sono passato da Leggenda a Estrema Mi sono trovato abbastanza bene Tranne l'ultima partita Perché era scriptatissima Però per il momento Sta andando il gioco Speriamo che continui così Incrociamo le dita Incrociamo le dita E andiamo Contro i Colorado Rapids Primo turno Io sono in cap Torna dietro Va da rap Buona per Rafael Navarro Che lo prova E palla che esce di nulla Però loro girano la palla Girano molto bene la palla Adesso Duarte Pazzi intasati Vediamo cosa combina Con Mario Iedlin Salta la prima marcatura Il capitano torna da Duarte Che è rimasto qua dietro Salta la marcatura Salta la seconda Duarte da fuori Col match Ma c'ha una potenza tiro Mario Ma c'ha una potenza tiro Clamorosa sto giocatore Pure nello scorso episodio L'ho provato Dalla tre quarti con il destro Ha praticamente rotto le mani Mario Duarte Il re barbaro L'ha buttata dentro al ventunesimo Il regione di Paolo Guerrero La butta dentro Ed dunque 1-0 per noi Adesso Max Gutierrez Non era fuori gioco? No Allora continua la sua corsa Iedlin In chiusura Gutmann Ho provato Gutierrez Con il tacco Solo di tacco Quello di colorato Rapids Poi sbaglia il cross Leo Chu con la testa E Mario Duarte Anticipa Pupacare Può andare Campo aperto per lui Può andare Mario E da solo perché Non lo segue nessuno Mario 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 il quarantesimo 2-0 Siatto Il Sounders E sempre E solo Mario Duarte Il re barbaro Anticipa Pupacare E poi se la fa tutta La metà campo avversaria Se l'è fatta tutta E Golan Miglior ATT del canale Se sono d'accordo Lui e Luthers La giocano Ma lui era veramente Tanta tanta roba Tanta tanta roba Rosenberry Dentro per Max La possono riaprire Con Rafael Navarro Garzia Diagonale perfetta E poi buona per Della Fuente Che va da Perera sbagliando Malissimo Della Fuente In questo match Max Max Passalo Prova Rete Male qui Polsen 1-2 Riaprono i conti Attenzione Testa Jedlin Attenzio Emon Saltagutman E poi Edwards Grandissima Chiusura Al novantesimo Diuff Non ci arriva Figueroa Sì E finisce il match Fuori casa Contro il colorato Rapids Andiamo avanti US Open Cup 2-1 Grande partita Da parte dei nostri Grande prestazione Da parte di Duarte La decidono I suoi due gol In t-shirt bianca Sì T-shirt bianca Vediamo da vicino il look Drip or skip Allora T-shirt bianca Easy Non brandizzata Pantaloni Caki O beige Come meglio preferite Che arrivano Quasi sopra la caviglia Senza risvoltino Perché risvoltino Regalo Lasciamo A chi si sa vestì E poi Sneakers bianche Che potrebbero essere Come Delle Air Force Oppure potrebbero essere Delle Dunk Low Oppure Non lo so Quello che vi viene in mente A me ricordano più Sinceramente Delle Stan Smith Se vuoi Adesso Andiamo a vedere Per favore Andiamo a vedere da vicino Sono cose fondamentali Queste per la carriera Modifica tecnico Vedete A me ricordano Più quel modello Oppure mi ricordano Tipo le Stan Smith fake Che trovi da Zara Allora Abbiamo adesso I Dallas FC Anzi FC Dallas Che fanno parte La nostra stessa conference Loro sono noni 2-2-2 Al momento 2-2-2 8 punti Noi siamo terzi A 12 Come abbiamo visto in precedenza 4 vittorie 0 pareggi E 2 sconfitte Nel scorso episodio Abbiamo un pochino Zuppicato a volte Però comunque La scuola gira Ottima risposta Contro i coloratori Rapids Vincere 2-1 in coppa Dopo il 5-1 Subito in casa In campionato E con Buscu Era importante Non era neanche semplice Perché comunque Il contraccolpo psicologico Sarebbe stato Mi aspettavo Un bel contraccolpo Invece non c'è stato Perché? Perché c'è Mario Duarte Partiamo Utili dall'ASFC Che tra l'altro Con tutta la formazione L'area recuperata Sono passati solamente Due giorni Perché? Perché la mia testolina A volte funziona Tra l'altro 70 di overhaul Figueroa Godo Perché ho messo Come piano allenamento Anzi come programma allenamento Tutto sull'energia Garzia Ma Jokin Garzia Ha cambiato squadra Così Negli spogliatori Si è confuso Ha messo la maglia D'FC Dallas Va bene Avo di Uff Atenzio Adesso Wang Grande controllo Grande controllo A parte di Dong Wang E nel frattempo Ha ricevuto la notizia Che il suo cartello Ha venduto 3 milioni Di dollari Di Una sostanza Che noi non conosciamo Sinceramente Chimene se di giro A polse L'ha toccato In calcio d'angolo All'ottavo minuto Romeo Arriola E c'è da applaudire Ragazzi Piedi come questi Non si vedono Tutti i giorni Di Andre Salta Gavory Di Andre Crossi in mezzo Dong Cioè allora Ha fatta la rovesciata Si è rotta la colonna Vertebrale Si è rialzato Come se nulla fosse L'Adrialla Verso la bandierina Dong Wang Tra l'altro Mi devo alzare su Perché sono rimasto giù Per tutto sto tempo Devo stare su Con la cam Vabbè Oriola va Sbaglia Garzia 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 Bravo Regen Bravo Regen Qua chiusura Corner per l'ora Arriola vicino Garzia Finta Di uff Non riesce a chiuderlo Frazer Arriola Frazer Jimenez Rete 1-0 Dallas Al primo No al secondo Al secondo Trovano il vantaggio Con Jimenez Ragazzi Testa 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 Va bene che in capione Siamo partiti bene Quindi In regolar sito Non possiamo permetterci Di perdere qualche partita Tumasi Passa su Garzia Vediamo se va il cross Tumasi Passa nuovamente su Garzia Crossi Mezzo E Jimenez Lasciato solo Vabbè Guardiamo solo Jimenez Voglio dire Yedrizio Guarda Figueroa Non ne parliamo 2-0 Dallas Pereira Attenzio Pereira Largo Verso Corrad Cerca il cross In mezzo Di Uff La mette giù Con il petto Buona per Leo Chu Dentro Ci sarebbe Duarte E qui brutto Cross da parte Di Chu Ma Faes Aveva fatto Una paperaccia Però non c'era Nessuno pronto A buttarla dentro Peccato Chu Ti prego Battaglia Verso il centro Messo allarghi apposta Battaglia Verso il centro Bravo Pereira Vai Leo Mancano 14 più Recupero Leo Chu Leo Chu Niente Romano tiene il passo Non si sa in che modo Ciuffino in fondo Ciuffo dietro Duarte Palla che esce di nulla Devori Gli lascia tanto spazio E quindi ne approfitta Corrad E corre 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 Corrad Ecco qua Duric è tornato Gran carriera Ibrahima Mamma mia Ibrahima Madre santissima Ibrahima Pena 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 I piedi Non li avevamo montati Questa partita Contro i colori Rapids Perfetti Questa partita Abbiamo deciso di lasciarli Negli spogliatoi I piedi 2 a 0 per loro St. Louis E poi bella pausa Poi bella pausa Abbiamo una pausa Veramente lunga Due settimane E poi Abbiamo già La partita Di US Open Cup Sempre contro Dallas Dallas back to back Prima coppa E poi campionato Si possono vedere i turni Ottavo di finale Contro i Dallas Adesso St. Louis Dunque Perdiamo sicuramente posizioni Infatti siamo quinti Perché il campionato Appena iniziato E Siamo a meno Una differenza Vinciamo per favore Questa Chiedo eh Chiedo St. Louis Penulti nel nostro Nella nostra conference Sono i tre punti Dai ragazzi Dai Proviamoci Fiamo finta De provare Ci siamo Si parte Per St. Louis Seattle Sounders Terza partita di questo episodio Seconda di campionato Se non sbaglio Ottava giornata Di Regular season Vediamo da Due sconfitte di fila In campionato Da una bella vittoria In US Open Cup E quindi È un periodo Un po' altalenante Per i nostri Seattle Sounders Nelson Nelson ancora Ross Eccolo qua Ostrak Polsen Attenzio Yedlin Horrad Posizione regolare Horrad passa Horrad dietro Daniel Duarte Palla che esce di nulla Ma quant'ha girato Sta palla Ostrak Bravo Leo Bravo Leo Vai vai Corri 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 Prateria Corri che prateria Corri che prateria Leo Corri Corri fino in fondo Contro Ruiz Ciu 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 È più rapido Ciu Fino in fondo Ciu Ciu Lo proviamo Corrad Della Fuente a portavola Se lo stava per mangiare Se lo stava per mangiare Ma la palla è entrata La palla è entrata Corrad Della Fuente Con i suoi guantini L'ha buttata dentro 1-0 Un Corrad Però è defilato In mezzo a due Corrad passa Corrad in qualche modo Corrad in mezzo Duarte anticipato Di uff Ci arriva Pereira E poi Duarte Non riesce a buttarla dentro Attenzio e famme Fini l'azione Uff Che fila perché Da solo Duarte Anche lui in mezzo Sarebbe da solo Ma andiamo Verso della Fuente Che se la coordina La di Cani E tempi del West Ham Leo vai eh C'è tanto spazio Prenditelo tutto Pinta Anzi suola Che fila Leo Dentro da Pereira Che è stato lasciato solo Può andare Daniel Daniel Accelera Daniel 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 Perera Che difesa brutta Quella di St. Louis E al 59 2-0 Con Daniel Perera Secondo Il campionato per lui Meritato il doppio vantaggio Solo si ha Toll Saunders fuori casa Ibert Leuven Gioacchini Ma che senso Questo le prime intenzioni Ha tirato Un Tiro a 400 km orari Ruiz Vasilev Questi la pareggiano Gioacchini Leuven Pulsen Qualche modo Garzia Regen Niente Niente Stiamo a cazze già Atenzio Con la punta Corrad E' finita Vinciamo noi Vinciamo noi Vinciamo noi Su una vittoria In campionato 2-1 Sofferenza massima Classico Delle nostre partite 2-1 Però Dai Reso conto Giovanitalenti Disponivi Avremo trovato Niente Non si trova Niente Possibile che non riuscimo a trovare Un fottuto giocatore Dalla primavera Cioè ragazzi Non troviamo mezzo giocatore Dalla primavera Con Stefano Ferri Troviamo molta più roba Ragazzi E' una situazione Veramente critica Cioè Stefano Ferri Aveva fatto Paradossalmente Meglio di questo Perché Come si chiama Dobbiamo Inventarci un meme Su questo osservatore Per forza di cose Dov'è? Stef primavera Ryan Parker Oh Non lo so Invece di andare Tra i grattacieli Statunitensi Con le ragnatela Rimpiegandoti Da una parte Ad altra Per favore Trova un attaccante Come Cristo Comando Un Clayton Dempsey Del futuro Così Un Landon Donovan Per favore Per uno Allora Quinti Ancora la nostra Conference Anche perché I Vancouver Wackups Hanno una partita in più Così come I Portland Timbers Volano Le Galaxy Sette vittorie Due pareggi Zero sconfitte Mentre i punti Quasi punteggio pieno Per loro Noi facciamo tanta fatica Siamo un pochino Zoppicanti Adesso abbiamo Austin FC E una squadra Che era anche Loro nel sondaggio Per quanto riguarda La squadra da scegliere Loro sono Dudicesimi A sei punti La nostra conference L'hanno il terzo Ultimo posto Vamos Perere L'ex E la partita Loro hanno Le M1 Atenzio Yedlin Atenzio Perera Viene a prendersela A basso Garzia Leo Lasciato adesso E quindi ne approfittiamo Con Leo 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 Cross in mezzo Insidioso Ma non c'è nessuno Non c'è nessuno I nostri Perera Da fuori a giro Eh peccato Ma prova a piazzarla Corrad Corrad Corre Corrad Vede Mario lo serve Duarte 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 Ma regà Ma che Ma in questo episodio Cioè prima di questo episodio Che abbiamo fatto E Ola E parte Ma voi mi potete spiegare C'è uno fantino Che finisce alla bandierina Ma potete farla Ola Ho capito che se in America E tutto deve essere un show Però mi pare esagerato C'è prova a piazzarla Il giocatore In questo modo Fodri C'è fall È girato c'è fall Fodri Entra ancora da c'è fall Rete Classico gol della cpu Oh Quando subirò un gol diverso da questo Sarò contento Eh 1-0 Zumbiai di ambu C'hanno questi Ecco perché mi ricoglionivo Tra i nomi Fodri Non c'è credo Guarda con che rimpalle È passato questo Polsen Fodri O campo Chavez Bravo fighe No a te Che cosa ha fatto Adensio Polsen Polsen Ma caffa Vabbè perdiamo Perdiamo 1-0 contro Justin FC Una partita bruttissima Sia per noi Che per loro Più per noi Non azzecchiamo Mezzo passaggio Tocca sistemare Assolutamente L'errore passaggi Raga perché Non ne va bene Mezzo Da inizio episodio Un passaggio Piltrante Sbagliato Un passaggio Semplice Sbagliato Tocca sistema L'errore passaggi Con il passaggio Da leggenda estrema È troppo È troppo davvero Ultima partita L'episodio Contro il Real Salt Lake Che abbiamo già affrontato L'errore Una bella situazione Non è proprio Per niente Una bella situazione Ne siete consapevoli Vabbè che siamo Una prima stagione Vabbè che comunque Questa prima stagione Non vinceremo mai E poi mai L'MLS Puntiamo a vincere La Vivo Sopen Cup Però Comunque Non è per nuna Una bella situazione Ho diminuito L'errore passaggio A 55 Ragazzi Perché è veramente Ingiocabile Con 68 E vedremo un po' Come sarà in questa partita Contro il Real Salt Lake Con la formazione Idolare Vamos Corner il Real Salt Lake Adesso giocano sempre vicino Cioè che ci devi fare Questi giocano sempre E solo Vicino È incredibile Tutte le scuole di MLS Giocano vicino La palla È tanto Blackout Allume field Classico Pulse E calcio d'angolo No giocano vicino Miracolo Allora vuol dire Che segnano la corner Garzia Regà È assurdo Cioè sto gioco Sto gioco Lo conosco meglio Delle mie tasche Ragazzi miei Meglio Verera Ciù Leo Ciù Duarte 1-1 subito Che off glitch Al 17 Un po' di script A favore nostro Leo Duarte Dai 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 Terzo gol in questo episodio Sesto Il stagione Non mi ricordo Mi sembra di sì Comunque L'importante è che ha segnato Leo Il re barbaro Perché ho detto Leo Leo Duarte Ex giocato del Milan L'avevamo accennato prima con la chat Attenzione a Savarino Che questo ha superato Yedlin Attenzione a Savarino Bravo Diondre il capitano Con due piedi quadrati Ma che la velocità ce l'ha De là De là Corre Sprinta Rientra Yedlin Yedlin Rossi in mezzo Uh era buono eh Non era male Attenzione Ferera Diuff Leo Ciù Troppo defilato Calcio d'angolo per uno al 26 Dai ragazzi Prema per favore eh Prova la testa di Marione Eccola Non ci arriva Marione E vabbè Si è addormentato Marione De là De là De là De là De là Quanto casa quando corre De la fuente Strattonato Senza fallo Secondo l'arbi Contrima fine Non riesco manca a parlare Daniel Pereira Da sul mancino Lo proviamo Lo stesso Sembrava buono Sembrava Ma non lo era Palesemente Palasio Rubio Polsen E' come un gol Sta parata Calcio d'angolo E la fuente vede Pereira Lo serve Daniel Ah se l'ha allungata E invece no E invece no E invece no Il pallonetto E' il finishing Di questi Sounders 2 a 1 L'abbiamo ribaltata La con Daniel Pereira Su assist Di KDLF Che pare veramente Non lo so Una sostanza O un DHL Per appunto Un corriere Ma è 2 a 1 Per noi Attenzione a sta punizione Che non c'era manco Però attenzione a sta punizione Qua a rango Rossi in mezzo Lucas Figueroa Testa E della fuente Non c'è Attenzione a Martin Buona per Gomez Ancora Martin Ragazzi resistiamo Stringiamo i denti 20 minuti più recupero Palacio Pucheda Fiore Oh manca il tempo Di dire resistiamo Che ha segnato Fiore 2 a 2 Ce posso crede Attenzione perché Il 92 Se non dobbiamo Stendere Gomez In qualche modo Ma siamo troppo lontani Regen capisce tutto Lancia lungo E finisce 2 a 2 All'1 è finita Una partita equilibratissima Finisce con un pari Due vittorie Due sconfitte E un pareggio Episodio a dir poco Alt'allenante Questo Dobbiamo trovare ancora La quadra della squadra Ma è normale Perché abbiamo fatto Un mercato rivoluzionario Partiamo veramente Da 0 Quindi ci sta L'obiettivo stagionale La US Open Cup E i playoff Di MLS Nient'altro